buonasera a tutti, ecco c'è l'eco, devo levare il suo eco perché se no non lo posso sentire, ecco qua, già fatto, già fatto, buonasera, buonasera a tutti, soprattutto a tutti quelli, arrivi e salai omisa, ma non fa niente, tanto sogno, ame casa, non mi devo vergognare di niente, ciao a tutti quelli che mi hanno detto Befana, auguri per la Befana, guardate, se io sono Befane, scusate se io fu ricco, ho fatto le strisce, guardate qui, me li ha fatti mia figlia Samara, le strisce, sono finte, accattavo un tv, ho comprato, ho capito, ho capito, ho proprio, e io li ho pitturati, guardate qua, vedete che belle le strisce, noi stasera mi levo tutte cose, ma fa facere meriose perché dovete, guardate, voi dite sempre cose strane per me, io lo so, io parlo sempre per i miei parenti, per le mie cognate, ho capito, ho sotto la tuta, scusate, ma è l'unica cosa che te ne cavura, signori miei, perché ho i miei pigiami, quelli in palla, a po' a, con le palline, che si stanno lavando, che mutanne, hai capito, aspetta, ecco qua, così quando parlo, non si asciugano le labbra, hai capito, no, signori l'Epifania, tutte le feste porta via, io già mi sconsavo l'albero, lavavo tutte cose, mi fece pure le pulizie, basta, ora non voglio sentire né più parlare, né di mangiare, né di panettoni, né di alberi, né di luci, e di niente, non voglio sentire più niente, basta ora, capito, sono stanca di dire, anche a te e famiglia, anche a te e famiglia, anche a te e famiglia, ma vedi che rottura, ma proprio rottura di chi davvero, signori miei, ma lasciatemelo dire, chiedo scusa se non vi posso salutare, ma vi sto vedendo lo stesso, ma non so chi siete, va bene, va bene, perché questa è una premiere, è stata fatta proprio minuti fa, capito, talia, che su, beh, no, no, ma veramente, si possono mettere pure dietro, eccolo là, perfetto, finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, la falla affondare, quando l'amore viene, il campanello suonerà, quando l'amore viene, il campanello suonerà, e a me il campanello mi suona, o più pochino, o più camorre, un'assonato mai, un campanello per me, hai capito, per amore, per amore, si immagina, suonano, sì, chi è, e sono uno che sono innamorato di te, ma vedi che canzone, quando l'amore viene, il campanello, semmai è adatto per i maschi, perché le campane, ce l'hanno i mascoli, i campane, quindi quando l'amore viene, il campanello si muoverà, si muoverà, capito, è così la cosa, insomma, fanno certi testi e certe canzoni veramente sbagliate, va bene, oh, ma mi sta, dov'è, mi sta vibrando, mi sta vibrando il telefono, ma sentiamo, aspetta perché non vibra più, un vibra, pronta, niente, 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 non vibra più, pazienza, pazienza, non vi preoccupate, chiameranno, chi è che mi vuole, sa dove, ecco, chi è che mi vuole, sa per un neve deve prendere, ho capito, eccolo qua, uno, è, a dire, sta vibrando, io già lo so, sentiamo quepi che già la, io, già, sogno, pronto, pronto, ma si può sapere chi è che disturba, per cortesia, pronto, ciao, ciao, tette, io ho segnato solo Rosetta, come si, bene, bene, Rosetta, sto bene, quanto tempo che non ci sentiamo, sono proprio in diretta, Rosetta, capito, sono in diretta, in premier con il pubblico, ma dimmi, Rosetta, che c'è, che c'è, sassaggio, si, ma a dio quando tu finirei, quando ti finirei, quando ti dice che ha menopausa, quando, che significa, quando ti dice duave, quando mi finirei, quando ti dice, che ha menopausa, biii, ma io non mi ricordo, poi la mia menopausa è impazzita, c'è quando mi vengono i cuor, se c'è quando non mi vengono più dipende da bile che mi fanno fare i miei cugnati lo capiste? si tutta la sua, che fosse pure io avevo il 2 dicembre con me venne qua sì forse mi venne la menopausa pura mia mi venne ma? direi che cosa? buono che mi consiglio spero di raccattare i pannoloni vabbè che mi aveva chiede mia cugnata cacciavagliava all'ospedale e mi aveva idda però risparmio ma io troppo guaranate però russa russa sento sempre il cavolo si andò si è vero è vero e io pure quando avevo in menopausa pareva cacciaviglia un fuino ho capisci se ci manca solo un fuinnaro di pane i guaranate cacciaviglia io Rosetta tu non te li puoi immaginare come erano si incinta ma quale incinta sua ora a me mi marita non funziona più non funziona quale incinta incinta e poi che hai un letto io che ora avere fighe menopausa e menopausa menopausa e pazienza pazienza menopausa chi ci vuole viene per tutti prima o poi viene per tutti tu non è che puoi essere sempre capito così la signorinella azilla del caso eh quindi a proposito tutti i muscuidava diretti usai cosa è la zona quale quale se la zona affigliare a saida quale tu affigliare a saida a saida ma tu ci credi che per momento io non non mi ricordo quello affigliare a saida non mi ricordo quello affigliare a saida proprio non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo quello affigliare a saida no perché chi ti diceva pacchiuna a te ti diceva pacchiuna e tu ci dicevi e tu se saida ed ed è vero è vero e chissà che io ero in carne veniva e mi diceva pacchiuna e io ci diceva sei da salata levati i menzucchi con ciuscione buale vero e mi sto ricordando perciò so figlia quando tornappi sei mamma che schifo però ma comunque se stai io te la sali perché caccio il pubblico capito comunque ti saluto che va a cuscino eventualmente mi veni qua se io tu ricco ma penso che ormai è meno pausa ti saluto ciao 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 siente e dimmi salutami a tuo marito ciao ciao ma vedi che scegliere il mare salutami a tuo marito ma è una cosa che non si ci crede salutami a tuo marito ma vedi che cosa signore mio dice se mi vengono le cose ti richiamo vedi che prima che io io se tu ci vengi quasi di nuovo meno pausa e ci pareva che poteva fare sempre ho capito finito i guaranati purtroppo non solo io ho capito ci pareva che c'era certe volte purtroppo mi faceva spiegare già se meno pausa ora diventa più focosa perché veramente certe volte la meno causa la meno pausa porta a essere più calorosi capito c'è a cui poi sta sdegno come mi ha portato a me sdegno totale capito sdegno direttamente di tutto c'è a chi porta invece benessere a cui a cui a cui veramente a chi non ci piaceva ci piace raccussie vi siete chiesti mai quante persone di una certa età anziane ci piace ci piace e anche per questo è la meno pausa che da questi capito noi donne siamo diversi non siamo come gli uomini che è arrivato ad un'età non c'è niente capito noi è così io dico fortunatamente lo sdegno però il mio sdegno è un sdegno particolare amici miei sdegno solo di mio marito perché se io mi chiudo gli occhi e penso un altro attore un altro signori sdegno non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente sdegno ma è vero ci vuole la parola è veramente allora signori miei io allora io non è che sono proprio menopausa non ci sono perché le mie cose dipende dagli abili che faccio me l'ha detto il dottore cioè lei l'abile l'ave attaccata alla menopausa se lo faccio troppo abili mi vengono cose se non le faccio vivo serena non mi viene più niente infatti uso ciò dentro i topo la i tap max come che si chiamano i tampo i i tampo max i tampo max sì questi di qua quelli piccolini quelli piccolini d'accus picchi ora me li posso mettere quelli piccolini all'inizio non me li potevo mettere perché appena io li mettevo scomparivano non capisci niente niente e quindi addirittura parla mia sorella di pannolone ma vedi che cosa vedi che schifo cioè vedi che cosa anziché comprare capito io poi questi qua non li trovavo mai ci andavo ci dicevo all'inizio 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 e lei dice su metti i uoi ma me le va a dire lei quando me le metterò io ci disse ma vedi che cosa no signori mie c'è da uscire pazzi 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 ora lei comincia pure con questi prodotti perché io quando cadevo in menopausa usavo la come che si chiama la succella la succella la succella è quello che disinfetta tutte cose belle a sistemare la succella vero ora io giurico che si accatta me solo se no più calorie viene più calorie ma questa succella costava un mare di picciole poi ho fatto un fuso un fuso io l'ho fatto con la menta ho fatto crescere la menta un po' di tè verde ho capito ci mise tutta questa menta tutta girare e facevo i bidoncini mi rinfrescava mi rinfrescava fino nel cervello perché veramente chi ha la menopausa vengono le calonate le calonate che sono veramente una cosa io ormai non le ho più queste cose di qua io anzi lì ho sempre freddo capito sempre dimmi qui no no è la mia sorella Rosetta che si ci blocca di qua se fossi un menopausa sì sì io un menopausa sì sì che dici che senti cavolo sa male vuole sapere e cura che cosa? ah sì quanto hai? va bene va bene e niente e la temperatura che cambia mi dice che ha quattro giorni di detardo e sì e che fare? ha una come chissà vuoi dire manco vuoi dire sì non ti preoccupare eventualmente se domani non vengono ce ne andiamo dalla ginecologa non ti preoccupare e vedremo che cosa come niente non c'è di avere fiducia signori miei è bello che morisci che ha i giorni di dettagli ma chissà fa apposta lo fa apposta vuole fatto il tè caldo la sera quando ci vieni qua hai capito si mette là tutta col dolorino le panze tutto fare tutto il turismo sei un'ambrogiona sei che ci ho fatto sei un'ambrogiona però lavora bene guardate qua che mi fece signori miei però lavora bene vero è chissà vuoi dire non devo comprare un euro un cioffo di questo un euro erano tutte nebure io mi siamo fuori la bomboletta guardate qua come vennero color carota richiede veramente eccezionale allora signori la prossima festa qual è? qual è? capiamo ora vediamo un po' Natale passò e ora ah c'è la Pasqua c'è la Pasqua c'è il 25 aprile c'è il primo maggio ora ci sono tutti questi gran camorri ho capito che per il primo maggio non possiamo fare la scampagnata perché siamo chiusi ho capito il 25 aprile non la potremo fare manco perché siamo chiusi ho capito poi in tassate ne liberano tutte battepanne liberano tutte signori i giochi di una volta erano tutta un'altra cosa nascondino chi non ha giocato a nascondino una volta accucciavo che io ero ragazzina giocavamo con le mie amichette del quartiere a nascondino e vivo a trovare questa puetta ammucciata vuoi dire con il picciottetto che mi piaceva a me da nascondino è finita che lei neanche si immagina come hai capito perché io le ho viste ho detto batti batti volevo dire batti i panni libere tutti e disse batti stai battendo stai battendo col mio migliore amico che c'è picciottetto sempre di stare quando è stata unica infatti tuttora ci sono notizie che ha già accacciato qualche 10 mascoli perché già si vede da piccoli già si vede ora tu vedi che io ero intenzionata dal ragazzino con questo era grazioso il suo ragazzino maracusseffino io ci avevo chiantato l'occhio di sopra e voi da picciottetto il suo fotteo cioè tanto per dire già l'hanno da piccoli nel sangue se devono fregare il maschio degli altri lo fregano c'è poco da fare ce l'hanno intosando direttamente ormai capito è così io già li so conoscere io una volta c'era un'amica che chissà è venuta da me e mi diceva sempre gioia mia gioia mia amore mio amore 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 mi sono sbagliata di uomo se voleva fottere a mio figlio che era rincia ancora con mia perché a mia mi diceva amore amore mi portava i regalini e nel frattempo aveva l'occhio con mio figlio ho capisci no no tu te proprio te sbagliassi di casa e di potea e così una mattina con il teca gioia mia gioia mia ci sei ti viene qua che ti devo confidare una cosa capito ho detto mio figlio purtroppo io te lo devo dire ma che Aida ci piace cacciando l'occhio sopra lo capisci ci disse mio figlio non si tocca stai attenta per te ma io sono qua per te tu sei capo tu sei capo tu sei capo per fottere tu puoi subito tu sei capo subito un semplice più un semplice più perché io subito li riconosco i miei i consuma casate i consuma famiglie io li conosco subito quindi ho poco fiducia capito di quelli che subito vengono senza canoscere e dicono ma non esistono queste cose a casa mia ora invece faccio l'appello se c'è qualcuno che vuole mio marito signori miei può prenderselo a me mi fate solo una grande cortesia messaggio scusate ma chissà hai due teste d'aglio Filomena non ne ho aglio capito neanche cipolla non ho niente dentro un meccatino non l'hanno fatto giovedì non ho comprato niente hai capito perché cosa ti serve l'aglio l'aglio mi serve per i vicini ah 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 ma ridete dobbiamo ridere cioè mi sta disturbando nel mentre che io sono senti qua Filomena io sono in diretta con il mio pubblico tu tutto il suo scemonetto che c'hai in tà panza l'aglio serve per i vicini ma pure se tu servissi più vicini un aglio agliapetea ho capiste oh siccome ci dico io sempre l'aglio ci vuole più vicini l'aglio ci vuole più vicini sa fare la pasta con l'aglio e l'aglio stasera sicuramente perché questa qui quando si fa la pasta con aglio e olio né compra olio né compra pasta né compra l'aglio ho capito se c'è dato tutto così ora mi ragionavo che va spesso l'anno a me mi chiede l'aglio e appiera ho capito appiera il formaggio e all'inquirina nuova capire avanti un pochino di pasta e si fa la pasta con l'aglio e l'aglio che schifo signori mie che schifo e poi che fanno chi se si fanno le vacanze si fanno le vacanze gente che piangono minestra gente che piangono minestra veramente ah ma io piccolo un aio ah ma io soldi non ne ho ah ma io soldi non ne ho e poi si fanno le vacanze ora voi mi dovete dire come noi noi li dobbiamo chiamare a chi se sei due piccoli un aio un aio giusto tu sei due piccoli non ne hai non devi farti la vacanza ti hai stare a casa ho capito a casa ti hai stare no? dicono che soldi non ne hanno però si fanno le vacanze è assurdo ma questo è essere bugiardi ho capito essere bugiardi e comunque io capisco non ne ho e dico che domani me ne vado a mia ma io dico ma signori miei ma come siamo ridotti qua no con mia un cipolle nudo con mia buonanotte eh dai filomena buonanotte buonanotte pure a te ho capito ne vediamo domani mattina in Tascala prepara tu un caffè capito? preparalo tu scusate sta scrivendo no il no il caffè preparalo tu non ho le charde non ha le charde preparalo tu ok ok tranquilla te lo preparo io schiumoso come ti piace a te con la schiuma capito? tranquilla tranquilla tu prepara i biscotti cotte domani ce l'addolciamo questo caffè così ce le faccio lavare il pulo ho visto le fare a ticchia manco 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 caffè no ma c'è di nesce filomena io sono scusa ma scusami non hai neanche caffè che tu mi scrivi che devo fare io? ah non hai manco caffè ah non hai manco caffè si ma dico ma com'è che non hai ne aglio né olio né caffè né niente però ti fai le vacanze non ti finisci stassate a bronco ville non ti fai le vacanze stessano rata chissé ancora non hai capito che prima viene il necessario prima ti fai la spesa rinca e poi ti fai la vacanze ho capito? se si dice che tu non hai neanche 2 euro tu ti fai la casa non che devi chiedere tutta cosa a me comunque ci vediamo domani ciao vedi come si parla chiaro signori miei se non si pagano la faccia inutile fare io non svio da nessuno non scappo da nessuno affronto affronto io mi interessa si affendono me ne pagano un litio e mezzo me ne pagano un litio e mezzo e basta va bene signori vi saluto anche questa befaniata c'è stata vi auguro un buon già ne abbiamo venerdì romani venerdì a me mi pareva lunedì stiamo sballando stiamo perdendo va bene la cosa della mente stiamo perdendo veramente con tutte queste feste che vengono venerdì venerdì sabato venerdì sabato venerdì che cosa c'è che cosa c'è che cosa c'è si ci ho parlato io con filomena poco fa ci penso io ora ok scusate signori miei vi saluto ora io leggo già ho letto capito ho letto chi siete solo che non vi posso rispondere ma non fa niente un bacio buonanotte a tutti alla prossima ciao 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 ciao